Eccoci qua, siamo nel terzo caso del mini blocco su Detective Conan sui casi non tanto della zona principale ma su altri casi estettamente gialli che recuperiamo con qualche numero di episodi indiesi perché ormai siamo oltre i 600, abbiamo iniziato con il 428 e chiudiamo con il 596-597 ovvero la stega nella nebbia che è un caso che consiglio non tanto per il caso di Persena perché ci dà alcune informazioni bizzarre sui personaggi che già conosciamo e che è una sorta di Fast and Furious su strada, quindi chiamo lo spoiler per questo caso fra 5, 4, 3, 2, 1, 0, intanto vi invito a iscrivervi perché è importante supportatemi perché obiettivo del canale 1000 iscritti entro il 31 dicembre 2023 e io confido in voi perché voi potete aiutarmi in questo quindi basta un'iscrizione per rimanere aggiornati su tutti i contenuti sia al cinema, alle ultime uscite ma anche di piattaforme, anche anime e di qualunque cosa io voglio proporre perché penso sia interessante quindi andiamo la stega nella nebbia, 500 abbiamo detto 96, 97 caso a 2, 2 episodi per questo mistero, chiamiamolo mistero che in realtà è un pretesto per fare un caso un po' più intraprendente, un po' più di action del solito non c'è un vero caso, stranamente non muore nessuno, stranamente perché di che cosa parla? su una strada vicino a un monte di cui non ricordo il nome, c'è tanta nebbia, questo è il punto e c'è questa strada dove degli automobilisti tendono a correre, ok? e c'è questo mito, c'è questa stega nella nebbia, che poi scopriamo essere esato, diciamo in spoiler e c'è questa figura mitologica della stega della nebbia che spunta all'improvviso, supera tutti e ti sfida a correre con lei ma poi porta a delle morti, perché nel seguire questa stega nella nebbia con la sua auto bianca e il suo molto peculiare rumore che sembra un urlo di una strega, le persone tendono a morire perché vanno fuori strada viene coinvolta anche Gohra in un certo senso insieme a Yamamura, ispettore Yamamura anzi e da qui inizia la comicità, quindi è un caso più comico che interessante perché alla fine, come detto ci sono molte scene delle auto che si scontrano, diciamo che la cosa interessante è capire come i veri responsabili abbiano usato il mito della strega, poi parliamo del movente, che è la cosa più ridicola secondo me dell'intero caso, hanno usato il mito della strega per sfidare altri automobilisti quindi in realtà la strega è stato che compare alla fine senza rendersi conto di essere la strega ma come è stato all'auto rossa e tutti dicono che invece quella della strega è bianca sì perché in realtà l'ha fatta di verniciare, ma poi c'è l'urlo della strega che è stato che quando va in auto e prende le curve a grande velocità si mette a urlare quindi niente di che, può far ridere, è simpatico però ci puoi costruire un caso sopra e mi sembra un po' eccessivo di per sé la dinamica della canna da pesca può essere carina è proprio un caso improvvisato così tanto per ridere può funzionare, non è che non può funzionare però c'è delle cose che non mi stanno bene è simpatico, rispetto a Yama Amore è tutto però quando i due vengono fermati verso la fine, loro riescono a scappare e Conan dice a Yama Amore non hai i numeri di targa di questa auto? fa no e non ce l'ho ok, gag, ma è sbagliato perché nella parte precedente abbiamo visto che questi erano stati già fermati prima al posto di blocco quindi vuol dire che là qualcuno avrebbe dovuto prendere i documenti di solito almeno anche la targa, come si scrive la targa per essere richiamati in seguito, quindi non ha senso la loro fuga è davvero stupida ma è funzionale perché Sato deve intervenire e fermarli l'altra cosa che mi ha davvero fastidio è il movente che rompe anche questa epicità di questo sconto uno pensa magari l'hanno fatto per una vendetta in realtà no, loro volevano spaventare gli automobilisti e nel farlo hanno fatto rischiare le loro vite perché ricordiamo, durante il caso si vede chiaramente che Goro sta uscendo fuori dall'auto per inseguire questi due deficienti quindi loro, siccome è morto un loro amico volevano fare questa cosa affinché nessuno corresse più su quelle stade ma nel farlo hanno rischiato di far ammazzare delle persone non ha senso poi le care vecchie gag di Goro che vuole vedere Yoko Okino ma Ran da buona donna di casa costretta in casa c'è nell'aspirapolvere va benissimo Yamamura superstar ma Yamamura soprattutto ha una nonna superstar grandissima nonna di Yamamura che è più intelligente di Yamamura stesso mi è piaciuto che all'inizio dell'episodio Goro la prenda molto sul personale una volta dice no, devo prendere questa strega della nebbia nella nebbia Goro ma anche meno è disperato il tocco della canna da pesca come ho detto carino qua funziona in realtà è fattibile è fattibile perché loro poi spostano la canna da pesca che sembra che siano le luci i fanali si chiamano le luci dietro dell'auto e quindi tendono a girare a sinistra quando a sinistra non c'è la strada quindi è pericolosissimo come detto loro volevano salvare gli automobilisti ma che cosa volevano salvare? siete dei criminali e basta quindi è un caso abbastanza inutile carini alcuni dettagli su Yamamura sulla nonna di Yamamura su Sato eccetera eccetera però dai tolto la comicità c'è ben poco voi cosa mi dite? vi è piaciuto? iscrivetevi qua sotto ciao iscrivetevi alla prossima